Perché localtourism.it? localtourism.it perché è la concretizzazione di un'idea che da decenni gira intorno, che è quella cioè di mettere insieme cultura di un territorio, prodotto enogastronomico di un territorio e turismo dello stesso territorio. localtourism.it è la concretizzazione di tutto ciò, perché attraverso il QR code, attraverso un sistema digitale, una piattaforma digitale, i prodotti enogastronomici, per esempio, di un territorio, di un determinato territorio italiano, diventano i biglietti da visita di quel territorio. E quindi chi cannerizza conosce l'azienda, ma soprattutto conosce il territorio da un punto di vista culturale, punti di interesse culturali, eventi culturali del territorio, altre aziende enogastronomiche che insistono in quel territorio stesso. Insomma, localtourism.it è l'oggi per quanto riguarda il turismo, la cultura e il prodotto enogastronomico di un territorio. Traccia il prodotto e connetti il turista che è in te. Con queste parole si può sintetizzare localtourism.it, una piattaforma digitale ed una community per valorizzare il proprio prodotto e promuovere il territorio italiano, soprattutto le aree meno conosciute del nostro bel paese. Proposto da Rete del Mediterraneo, impegnata da anni nella valorizzazione del territorio e da intuizioni creative, localtourism.it è stato al centro di un convegno tenutosi a San Giovanni Rotondo lunedì 29 gennaio. È aperto ai produttori enogastronomici e dei settori ricettivi della ristorazione e del turismo attivo. Si punta ad un mercato sicuramente internazionale. Turismolocale.it, quindi la desinenza finale, serve proprio ad indicare che stiamo parlando di un turismo locale italiano. Il fatto di dover valorizzare i punti di interesse culturali locali significa anche aiutare una serie di comuni o comunque di realtà che non sempre vengono valorizzate, ma dove è possibile poter trovare delle eccellenze enogastronomiche che possono diventare un vero e proprio driver del territorio locale. È importante una sinergia intanto. Il produttore deve necessariamente cominciare a collegarsi meglio con quella che è la parte ristorativa e soprattutto con quella ricettiva, perché non ci dimentichiamo che in tutti gli alberghi o le strutture ex alberghiere sono quelle che in qualche modo interessano i turisti oppure comunque quelli che vengono per lavoro. Quindi in quel momento lì, se noi riusciamo a dire a quell'ospite che è possibile poter vedere una serie di punti di interesse culturali e che si fa parte di una rete nazionale, la cosa diventa interessante. La sostenibilità è molto molto importante. Bisogna tenere presente che già il fatto stesso di poter dire a un ristoratore, non prendere un prodotto che magari arriva da 3.000 km, ma cerca di concentrarti quanto più possibile su lavorare con i produttori locali, significa già quello sostenere non soltanto una parte economica, ma anche una parte ambientale. Oggi l'imprenditore che intende aprire un'azienda deve avere molto coraggio, molto coraggio sia soprattutto nel nostro territorio perché abbiamo un territorio particolare, però ci sono delle buone opportunità, quindi sia dal punto di vista delle agevolazioni e anche con le nuove tecnologie si possono puntare a nuove opportunità, a nuove iniziative che si differenziano dalle attività tradizionali. Quanto è importante portare il brand Made in Italy a fuori dai confini nazionali? È un aspetto ormai molto importante per le aziende agroalimentari e vinicole, soprattutto della zona nostra, per poter differenziare il loro business e ottenere possibilità di fatturato diverse da quelle del mercato nazionale. Però è necessario attrezzarsi nella maniera giusta per poter riuscire nei mercati esteri. Molteplici sono i vantaggi che l'adesione a localtourism.it garantisce. La digitalizzazione del rapporto tra aziende e territorio, l'aumento della potenza di comunicazione, il brand Made in Italy valorizzato e certificato, è l'azienda che diventa ambasciatrice del proprio territorio, con la conseguenza positiva che più turisti ci sono nel territorio, più si ha la possibilità che gli stessi diventino propri consumatori. È il momento di fare rete seriamente. Ce la siamo cantate per tanti anni questa rete che poi non è mai arrivata perché ognuno gioca nel suo. È il momento giusto, visto che abbiamo questa piattaforma a disposizione, e noi nel nostro lo abbiamo sempre fatto, il territorio lo abbiamo sempre raccontato. Ora diciamo che è un motivo di amplificazione. Quindi saremo sul carro e facciamo del nostro meglio come abbiamo sempre fatto. Abbiamo questo mezzo perché funziona bene, lo sfruttiamo, anzi diamo una mano forte. È un messaggio di viaggiare in sinergia con tutti i produttori locali e dei territori. Quindi non vuol dire semplicemente usare quando si parla di chilometro zero, ma la cosa importante è usare terra, tradizione, territorio. E local tourism è questo. Nonostante abbiamo poche risorse economiche a disposizione, abbiamo tanti imprenditori coraggiosi che in un periodo così difficile si sono messi in prima linea, hanno rischiato per innovarsi. Ecco, questa è l'Italia, ma questa per me è la Puglia. Il nostro territorio è veramente ricco di tante cose buone che vanno valutate e sponsorizzate al massimo. Noi dobbiamo essere bravi a vendere i nostri prodotti legati ai nostri territori perché ormai un prodotto identifica un territorio e nello stesso tempo il territorio deve identificare il prodotto. Grazie alla vetrina all'interno di localtourism.it le aziende tramite il proprio e-commerce possono aumentare le vendite, soprattutto estere, e comunicare la storia, le tradizioni, la cultura e gli attrattori turistici del proprio territorio. Faccio un esempio brevemente. Sono venuto in Puglia con la mia fidanzata in vacanza, ho assaggiato dei prodotti bellissimi, mi sono portato una bottiglia di vino, una bottiglia di olio, un pacco di pasta. Torno a Londra perché sono inglese e una sera decido di fare una cena con degli amici e gli faccio assaggiare la bottiglia di vino, buonissimo questo vino. Da dove viene? Viene dalla Puglia, viene dalla provincia di Foggia, ma dove con esattezza? Scannerizza il QR Code, dico ai miei amici inglesi. Scannerizzando il QR Code i miei amici entrano, conoscono l'azienda che ha fatto quel vino, conoscono dove è locata l'azienda, in quale territorio, la provincia di Foggia, quindi scoprono che cos'è la provincia di Foggia, ma poi scoprono che in quello stesso territorio, oltre ad esserci l'azienda che produce il vino che sto bevendo, c'è anche un'azienda che produce la pasta, che fa l'olio, che fa le olive, commercializza tutto il pane, i salumi e quant'altro. Ecco, localturismo.it farà in modo che quegli miei amici diventeranno domani, l'estate successiva, verranno qui in Puglia perché si saranno innamorati, avranno conosciuto digitalmente un territorio che io avevo già visto dal vivo e quindi da consumatori diventano turisti. È proprio così, da consumatori diventano turisti lungo la via della sostenibilità. Il turista infatti è colui che apprezza le realtà del mondo per arricchimento culturale interiore e come tale assorbe e restituisce energia positiva e quindi valore circolare sostenibile. L'obiettivo primario di ogni impresa di qualsivoglia settore è esattamente la creazione di valore sostenibile al fine di poterlo condividere con la collettività dei consumatori da un lato e degli stakeholder di riferimento dall'altro, i quali ne sostengono socialmente, direttamente e o indirettamente le risorse sociali, naturali e di regolamentazione culturale e politica territoriale. E' questa la circolarità sostenibile che la vision di Padre Pio TV si impegna ad alimentare e diffondere con l'obiettivo strategico introdotto dal General Manager Professor Giuseppe Pio Macario di agevolare l'incontro sistemico e la condivisione in network dei valori sociali, ambientali e di buon governo.